Adesso con questo corno in mi bemolle Mario Corso facciamo una prova partendo dal suono reale della nota mi bemolle 4 di quarta ottava con la posizione a vuoto quindi con nessuna delle tre leve premute e poi premendo invece in successione primo e secondo e poi primo e secondo e terzo tasto vediamo dove arriviamo in senso discendente allora sentiamo partiamo da mi bemolle 4 quindi noi siamo partiti dal mi bemolle 4 e poi siamo scesi fino al la diesis 3 va bene anche detto si bemolle 3 di terzo ottavo